Continua l'operazione Piazza Pulita a Pozzallo per mano del sindaco Roberto Ammatuna che dopo aver licenziato per giusta causa il comandante della Polizia Municipale ha rimosso la segretaria comunale e Dulcis in fundo, ha zerato anche il CDA della farmacia comunale formata dal 55% proprio dal comune e la restante parte da un socio privato. E' questo l'epilogo di quanto già si respirava a Palazzo Lapira di Pozzallo da diversi mesi, situazione destinata a prendere una piega drastica così come aveva fatto capire Ammatuna durante le pesanti dichiarazioni in merito a una scorrettezza burocratica di cui era rimasto vittima. Proprio il primo cittadino sostenuto anche dalla prefettura alla quale si era rivolto per denunciare situazioni diventate ormai insostenibili ha quindi deciso di ripulire, resettare e ricominciare da zero. Lo ha fatto da prima con il comandante della Polizia Locale rimosso dall'incarico per gravissimi fatti di cronaca di cui si era ammacchiato durante il proprio lavoro quando era dipendente comunale a Pachino. Avrebbe infatti prelevato per scopi personali consistenti somme dal conto corrente in cui confluivano i soldi delle multe. Secondo Ammatuna sarebbero quindi venuti a mancare i presupposti per un sano e trasparente rapporto di fiducia. Poi è stata la volta della segretaria comunale colpevole sempre secondo il primo cittadino di gravi violazioni dei doveri d'ufficio. La segretaria si sarebbe infatti rifiutata di comunicare al sindaco quando sarebbe stata in servizio al fine di tenere le riunioni della giunta. Si sarebbe rifiutata di far parte delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici banditi dall'ente e si sarebbe rifiutata di sottoscrivere contratti con i dirigenti. Infine, come accennato, ha zerato anche il CDA della farmacia comunale. CDA composto in minima parte da tre soggetti privati che a vario titolo sono stati accusati di non aver versato al comune circa 480.000 euro. Per i vertici della farmacia quelle somme non erano dovute al comune, mentre proprio a Matuna sosteneva il contrario a tal punto da averle anche inserite in bilancio. Stiamo cercando di rimettere i conti in ordine, ha affermato in più occasioni il sindaco a Matuna. Il vero problema di questo comune non è la liquidità finanziaria su cui stiamo lavorando per attuare un preciso piano di riequilibrio, ma la parte burocratica che ci rema contro. Un'amministrazione può lavorare egregiamente solo se c'è l'apporto della burocrazia. Grazie a tutti.